Da come viene vissuto l'effetto? Cerchio e Seno attraverso NT domanda Vorremmo capire di più sul fenomeno dei miracoli. Sono dovuti ad un intervento soprannaturale o invece sono causati da potenzialità sconosciute che abitano dentro di noi e che si attivano in momenti eccezionali? Alexander, molte volte in quello che voi giustamente chiamate miracolo viene manifestato un intervento di una o più entità che ottengono il consenso o per amore o perché un karma può essere alleviato o perché una prova ha avuto termine. Colgo questa occasione per continuare ancora la nostra spiegazione sul karma dicendo subito che, certo, un karma si può esaurire durante una esistenza. Non è detto quindi che un karma debba durare tutta l'esistenza terrena. Molto dipende da come viene vissuto l'effetto, ossia la prova che ne consegue. A seconda di come viene vissuta questa prova dalla entità incarnata, il karma può avere più o meno durata nel tempo. Se la prova viene accettata positivamente, senza ribellione, allora spesso il karma si esaurisce in un tempo minore. Quindi il miracolo è quell'evento trascendente perché appunto trascende le leggi della fisica e della materia ed è evidente di per sé per questa assoluta inosservanza delle leggi fisiche da parte di entità disincarnate. Ma spesso il miracolo vero consiste nella manifestazione di quella immensa possibilità insita in ognuno di voi incarnati in quanto noi tutti siamo scintille divine. Non dimenticatelo. È questa infinita possibilità, questa grande energia spirituale che viene attivata e più spesso di quanto voi crediate. Il vero miracolo quindi sta nella estrinsecazione di questa potenza. Chi va per esempio in quei luoghi carichi di misticismo come l'urdo Fatima o anche altri luoghi nel mondo in cui viene testimoniata con fede la presenza del divino sono frequenti gli eventi miracolosi ma non è detto che debba essere un'entità come la Madonna, la mamma di Gesù ad essere presente e a decidere con un po' di imbarazzo dico io. Chi guarire e chi no. È la fede. E qui per fede si intende quella possibilità di fare emergere la potenza dello Spirito. Cosa diceva Gesù stesso? La tua fede ti ha guarito, vero? Perché Gesù sapeva benissimo che ognuno di noi è potenza infinita. Ogni singola individualità incarnata o non incarnata è la manifestazione dell'uno tutto fatto individualità per poter opporsi a se stesso. Quindi voi e noi siamo quella parte di scintilla divina che una volta emanati dall'unità all'unità ritorneranno. Ho cercato con queste parole di trasmettervi quel poco che ho interiorizzato. Ai fini di quella che è l'evoluzione dello Spirito siate poi sempre intimamente consapevoli che questa vita ha una finalità importante nonostante tutto quello che vi può capitare. Il dolore, le sofferenze, anche le gioie tutte queste cose devono essere vissute come strumenti utili ai fini della vostra evoluzione spirituale. Quindi vivetele con la certezza interiore che nulla viene a caso e nessuno al di fuori di voi è regista della propria vita ed evoluzione. Potete subire l'influenza dell'ambiente di altri vostri simili ma voi come Spirito siete tutti uniti tutti un'unica cosa nell'universo. Capite? Ecco, noi potremmo farvi fenomeni eclatanti che vi sconvolgerebbero ma non otterremmo quello che dovete ottenere voi stessi ossia la coscienza, anche graduale di quanto è grande lo Spirito e tutto l'universo che è sottoposto allo Spirito. Non pensate di essere insignificanti creature che operano ed agiscono senza uno scopo e senza un fine. Ve lo posso garantire, non è così.